Barilli è legato a Parma, lui era nato a Fano, Bruno Barilli, era nato a Fano, poi si trasferì a Parma e iniziò gli studi musicali del conservatorio, fu proprio compagno di scuola di Pizzetti, due caratteri opposti, Pizzetti serioso e Barilli inquieto, come poi dimostrerà la sua attività, infatti non sopporterà il clima di Parma, una volta diplomato, e se ne andrà a Monaco in Germania a studiare con Felix Motler, che è stato un grande direttore d'orchestra, un sinfonista, e quindi si immerse in una cultura internazionale di grande spicco. Tra l'altro portò con sé il fratello latino, Bruno, anche lui pittore, che in quegli anni respirò proprio l'aria della secessione monacense, quindi è un pittore che poi dopo è ritornato a Parma, è rientrato un po' nelle file di una certa convenzionalità, ma latino Barilli, che ha fatto tra l'altro dei ritratti molto belli del fratello Bruno, e assorbì anche lui quell'aria internazionale. Un'aria internazionale che Bruno, con la sua irrequietezza, così poi farà svanire in tante altre direzioni, perché lui aveva studiato musica, la sua vera vocazione era la musica, però si era messa a scrivere, si era diventato reporter di guerra, per esempio la guerra dei Balcani l'aveva seguito, e durante questa guerra incontrerà quella che diventerà sua moglie, ossia la principessa Karadze Orjevic, quindi nipote del re Pietro di Jugoslavia, il quale disedererà, sconfesserà, per questo matrimonio, con uno straccione italiano, però fu un matrimonio così sollecitante, nacque una figlia, Milena, anch'essa pitrice, che purtroppo morì a suicida, ma sono tratti di una vita molto irrequieta, che non consentì a Bruno Barilli di concentrarsi sul discorso musicale, scrisse solo due opere, Medusa, che è un'opera di sapore straussiano, appunto risente la sua educazione monacense, e poi Emerald, che invece è un piccolo gioiellino, ma insomma due isole così un po' separate, nel tessuto di una vita molto irrequieta, vissuta come reporter e soprattutto come critico musicale. Ecco, la qualità di Barilli è proprio questa sua invenzione della scrittura, è uno dei più grandi, adesso i critici letterari hanno riconosciuto oggi a distanza, superato tutti i sospetti del personaggio, che d'altro era un personaggio anche molto così pittoresco, insomma, questa vita un po' da barbone che certe volte faceva, e comunque hanno riconosciuto che certamente uno dei più grandi scrittori italiani, insomma, sulla linea di Gadda, ossia quegli scrittori che inventavano, in più trattandosi di una scrittura critica. Ecco, il fatto che lui fosse musicista rappresentava certamente una chiave di forza del discorso, anche se naturalmente il suo temperamento lo portava ad essere eccessivo. C'era certamente da un certo senso il risentimento di essere un musicista che non poteva far carriera, più volte lo esprime in maniera molto esplicita, ma c'era nello stesso tempo anche una conoscenza, per cui le sue critiche, che sembrano certe volte strampalate, per esempio le sue critiche negative, la critica su Stravinsky, su Debussy soprattutto, le critiche su Wagner, che sembrano una prima lettura negative, in realtà poi si scopre che attraverso il negativo lui ha capito tutto, insomma, quindi è stato un grande. Certo, Verdi rimane il suo nocciolo più eclatante, il suo libro Il Paese del Melodramma è certamente una chiave di invenzione e di recupero in un certo senso, perché questo libro nasceva negli anni in cui le fortune di Verdi si erano notevolmente appannate, ossia il Verdi che continuava ad essere consumato, diciamo, in quegli anni era il Verdi di Deotello e Falstaff, quindi tutto il periodo centrale, trovatore, così, erano considerati appunto zoom papazum, ecco, quindi, allora ecco, uno degli apporti straordinari di Barilli fu proprio quello di riaccendere la fiamma con una prosa inventiva, insomma, Barilli è un grandissimo scrittore.